5 Stelle invece la posizione di Casaleggio. La guerra non si combatte con la guerra. L'Isis è figlio di una serie di interventi insensati, dice per ultimo quello in Siria. L'Isis è un'entità per il momento ancora abbastanza stratta. Bisogna dialogare con le realtà del Medio Oriente. Primo passo indietro invece di Beppe Grillo che sul blog lancia la votazione sul nuovo simbolo del movimento senza il suo nome. Grazie.